Come confermano le foto pubblicate da Meteoweb, una tempesta di sabbia sta storvolando il mar Mediterraneo e sta raggiungendo in queste ore le coste della Sicilia Meridionale. La sabbia da stamattina ha offuscato i cieli di Lampedusa e Malta, che è già ben visibile nell'aria e soprattutto nelle province di Agrigento, Ragusa, Siracusa e Catania. La sabbia potrebbe causare problemi di visibilità all'aeroporto Fontana Rossa della città Ettenea. Il vento di Scirocco dovrebbe insistere sulla Sicilia per tutta la serata per poi ruotare e spirare da occidente, portando un ribasso delle temperature e spingendo la sabbia verso il mar Ionio.